Sarà un Capodanno all'insegna delle buone tradizioni e dei festeggiamenti contenuti senza i classici botti di Capodanno o quantomeno facendo a meno dei fuochi d'artificio illegali. È quanto stabilito in diverse ordinanze dei comuni della BAT che prevedono il divieto di vendita di botti illegali e il conseguente uso di fuochi d'artificio di qualsiasi tipo nel periodo di tempo che comprende la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Tutti pronti per la prima notte dell'anno o quasi, le ordinanze sono arrivate già dai sindaci di Andria, Canosa, Biceglie, Barletta e Trani, mentre mancano ancora l'appello ma potrebbero arrivare, novità nelle prossime ore, Margherita, San Ferdinando e Trinitapoli. In particolare le ordinanze vietano i minori di 18 anni di portare con sé qualsiasi materiale di tipo pirotecnico illegale, mentre ai minori di 14 è vietata la vendita diretta. Le sanzioni, in caso contrario sia per minori o i maggiorenni comunque in possesso di botti legali, possono variare dai 25 ai 500 euro. A Biceglie, Trani e Barletta l'ordinanza vieta l'utilizzo dei fuochi d'artificio sino a 7 gennaio, mentre a Canosa sino al giorno 6. Ad Andria il periodo di divieto rientra tra le ore 20 del 31 dicembre sino alle 7 del giorno di Capodanno. Dunque un primo dell'anno che vuole mantenere il profilo della sobrietà, tenendo conto che i botti possono essere causa di problemi per animali domestici, cani in primis, oltre che è naturalmente per soggetti autistici o persone sensibili in circostanze come queste. L'augurio di poter trascorrere la prima notte dell'anno in maniera serena, mantenendo le buone usanze tradizionali e divertirsi facendo a meno dei botti.